Siamo qui alla galleria Umberto Prima, primo in compagnia di Chiara Stile, una influencer, una blogger. Chiara, io ti ho conosciuto in quel di Miss Italia. Ah, che bello, che bei ricordi. Mi hai nominato veramente qualcosa di molto molto speciale. Tu sei arrivato alle fasi finali. Io sono arrivata in semifinale nazionale a Jesolo l'anno scorso con il titolo Miss Sport Campania ed è stata un'esperienza che rifarei mille volte, davvero bellissima. Tu sei nocerina. Io sono nocerina doc, non nocerina, nocerina doc. Nocerina doc. Attualmente che futuri professionali hai, dove ti stai muovendo a livello professionale? Allora, io sto lavorando molto come inviata televisiva e spero di realizzarmi sempre di più in questo settore, e quindi intraprendere la strada del giornalismo televisivo perché è qualcosa che veramente mi sta appassionando e che spero mi porti i suoi frutti. Una splendida ragazza come te è un futuro che sicuramente le si addice. Grazie mille, grazie. Attualmente io so che tu hai un fratello giornalista. Sì, sì, anche mio fratello è giornalista. Con la nocerina calcio, se ricordo bene. Sì. Evidentemente preparato. Bravo, si mette un bel dicellote. No, ma in famiglia abbiamo questa vena, quindi un po' di giornalismo, cose così. Io scrivo per, faccio la Beauty Report per Glamour Italia, ho scritto per tantissimi siti come Notiziare, Albar Sport, quindi comunque siti che parlavano anche di calcio, quindi mi sto sempre... Allora ti aspettiamo anche a Web TV. E allora verrò anche... Eccoci. No, grazie, grazie mille. No, no, il fiore non ci serve, grazie. Questo è il bello, oserei di definirlo il bello della diretta. Esatto. Vado tutti in una location così... Esatto, ci divertiamo almeno. È una bella serata, siamo anche al coperto. Esatto, esatto. Perché tu non lo sei tanto. Uh, io sto manendo di freddo in questo momento. Credo che un cappottino forse ti faccio bene. Dopo lo indosserò. Comunque Web TV sicuramente sarà la mia prossima meta, quindi dai, forse coraggio. Grazie Chiara, buona serata. Grazie a te. Chiara. Una foto piccola. Grazie a te.